Ciao a tutti, ciao a tutti ragazzi, buona vista al vostro Hector Elio della Pegna Valbuena e Spindosa di Santiago de Compostela e Spagnoli A tutti ragazzi, allegria! Volevo dirvi che sono ancora triste il giorno dopo Mila Lazio per la sconfitta della Lazio Però benvenuti nella rubrica Leggenda al TriSport Oggi parleremo di un grande tennista, ovvero Fabio Fognini Nato il 24 maggio del 1987, ha 33 anni, ha alto 1,78 m e pesa 79 kg Ha vinto il grande slam, molti tornei, l'ultimo proprio l'ATP dello scorso anno Arrivando nella top 10, nei migliori 10 E insomma Arrivato settimo nei tennis in doppio Quando riguarda le caratteristiche tecniche, vedrice il gioco dal fondo campo Disponendo di un diritto di un rovescio bimare molto solido Ma si caratterizza per l'improvvise accelerazioni con cui riesce a chiudere lo scambio O a creare i risultati per avanzare del suo colpo Bene incisivo al servizio, avendo una bassa percentuale di ace anche su superfici più veloci Dispone di ottima sensibilità, motivo per il quale si cimenta spesso in colpi di volo O soprattutto lo schiaffo in avanzamento di rovescio E molto abbia inoltre di eseguire i millimetri che vanno le corte simulando i più canonici colpi a rimbalzo Grande il nostro Fabio Fognini Continua così Fabione Vabbè, nei prossimi giorni saranno tutte puntate di rubriche leggende altri sport E per ora vi saluto, a presto al vostro hectareo La pegna o al buone spinosa di Santiago de Compostela in spagnola E a tutti ragazzi, allegria Vi saluto e vi ringrazio Ma comunque forza ragazzi, bella a tutti i belli e brutti A presto Ci vediamo E quindi A Mugana A Mugana Non c'è Buona La prima A Mugana